Sarà presto attivato in tutti i nosocomi della provincia di Lecce il sistema tagliacode, monitor che indicheranno i tempi di attesa e trattamento dei pazienti in base al codice dell'urgenza. Lo ha comunicato il direttore generale dell'ASL Stefano Rossi durante la riunione convocata dal prefetto Rotondi sulla sicurezza del personale sanitario, una misura, quella esposta oggi, che si aggiunge a quelle già adottate. È stato fatto un grande lavoro all'interno sia dei presidi ospedalieri, con lo spostamento dei posti di polizia, ad esempio in luoghi contigui al pronto soccorso del Vito Fazzi, nella possibilità di collegarsi con chiamata diretta di vigilanza nelle sedi di guardia medica. Però l'episodio da cui stiamo muovendo oggi è legato a un'aggressione avuta da una giovanissima dottoressa in visita domiciliare durante il turno di guardia medica, quindi anche al di fuori della struttura, quindi non è un problema tanto di videosorveglianza, di possibilità di collegamento diretto con le forze di polizia, tutte cose già garantite, quindi c'è un tema culturale su cui dobbiamo lavorare. Il problema, hanno fatto notare i rappresentanti delle forze di polizia, coinvolge tutte le fasce di popolazione. Comune e provincia sollecitano campagne di sensibilizzazione della cittadinanza, anche con il coinvolgimento di Anci, sul rispetto degli operatori sanitari. Per l'incolumità dei medici, l'ASL incoraggia all'uso dell'auto di servizio. Rilancieremo anche un servizio già messo a disposizione dell'ASL, che mette a disposizione del medico di guardia medica, che va in visita domiciliare, l'autista e l'auto di servizio dell'ASL. Purtroppo questo servizio non sempre viene utilizzato dai medici, deve essere utilizzato nel medico senza la possibilità di scegliere l'utilizzo del mezzo proprio.